Musica Ben tornati e benvenuti al mio canale Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete Vi consiglio di seguirmi su Instagram Fate il link qui sotto e qui Mi sarei affasso il mio profilo Intanto scusatemi per questa voce un po' nasale Ma l'influenza gira Lo sentiamo tutti E non so quanto vi potrei interessare Questo video però Molte mie amiche Anche a scuola Dicono che sono una malata dell'ordine E che ho sempre tutto ordinato Tutto messo bene Tutto messo a posto E magari questo è un problema In cui voi incorrete Non essere ordinati Quindi come avete detto dal titolo Questo video sarà Su come essere ordinati Su come rimanere ordinati E quello che faccio io In quanto riguarda l'essere ordinato Ho detto un sacco di volte Allora Come sempre Oddio mio Come sempre Ho tutto scritto sul telefono Tutta la scaletta del video E diciamo che anche questo fa parte del video Allora Intanto premento che ho fatto il gravissimo errore Di non comprarmi un'agenda quest'anno Un'agenda sia Per utilizzare a scuola Sia da utilizzare a casa Per comunque i miei impegni E non l'ho fatto E non lo farò mai più Questo perché Forse molte scuole in Italia Ormai hanno Il registro elettronico Quindi ho detto Vabbè non mi serve l'agenda Ma ti pare E invece no Ogni volta che vedo I miei compagni di scuola Che la usano Io sono tipo Alessia perché non l'hai comprata Per favore Non farlo più Oh mio Dio Stavo dicendo Vorrei comprare Un'agenda di Mr. Wonderful Una così E Mi inserirò anche Un piccolo video Che Posso vedere com'è dentro E non so come saranno Per l'anno prossimo Comunque Diciamo che è un'azienda Che mi è sempre interessato Perché ha tutte queste cose carine Tutte queste cose Dio sì Una bella frase Che ti dà forza Inizia la giornata Quindi appena la vedi Bam C'è questa frase Tipo questa Vabbè Quindi Un'agenda Compratevi un'agenda Per favore Usa acqua Perché se no Acqua scatarro Ok Poi Io utilizzo Sempre Quasi sempre L'applicazione Note Questa qui Del telefono Proprio Questa qua E Dentro Le mie note Sono organizzate In cartelle Come potete vedere Ad esempio Qui Amore Dove ho Tutta una scaletta Su quello che fa La comprenza Del mio ragazzo Poi ho le frasi Che mi piacciono E alcune cose Che scrivo E anche le canzoni Che utilizzo Per le storie Ad esempio Dal computer Ho questi qui Che sono Descrizioni di video Già usciti Perché quando edito Mentre aspetto Che il video Si salvi Di solito Mi scrivo La descrizione Del video Ed è più facile Al computer Poi ho Elenchi Tutti questi qui Poi informazioni Sono cose un po' Varie Ad esempio Ho patente Perché tra un po' L'esame Il 28 febbraio Poi ho Informazioni Diverse Poi come si fanno Le scomposizioni Perché dovevo recuperare In debito a matematica E Padlet Che è un'applicazione Che usiamo a scuola Poi ad esempio Password Se non me ne ricordo Poemi Qui sono tutte cose Da scrivere alle mie amiche Che mi preparo Le lascio lì Per avere qualche spunto E poi video Qui vi metterò tutto Non a fuoco Perché sennò Vete tutti i video Che ho in mente Comunque Questi sono tutti i video Con tutte le scalette Ad esempio Questa che vi ho fatto vedere Scusate Notifica Il mio ragazzo Andiamo a leggere Per favore I capelli qua Non mi gustano Come avete appena visto La VIP Utilizzo molto L'applicazione Note E questo perché Preferisco Siamo silenziosa Questo perché Non è che ogni volta Magari mi porto una borsa Dove posso mettere Un'agendina Anche piccola E poi non è che Mi porto la penna L'agenda La gomma La matita No Almeno ho il telefono Ho tutto lì Appena ho un'idea in mente La scrivo Tac Sta là Un'altra applicazione Che utilizzo molto Ma questa è davvero tanto È L'applicazione ProMemoria Che è a fianco a note Proprio perché L'utilizzo tanto E molto spesso Entrambe Anche qui Su ProMemoria Ho diversi Elenchi Ad esempio Da fare Da comprare Salute Intendo Tipo un ProMemoria Per non dimenticarmi Le pilote che devo prendere Da registrare In questo caso Vuoto E da aggiustare Ad esempio Che ne so Mi Mi si è bucato Un calzino In diciamo caso Oppure Ad esempio Che ne so Mi si è rotta la stampante Allora scrivo qui Aggiustare stampante Poi i compleanni Perché se no Mi dimentico Faccio le figure di Un'altra cosa Che utilizzo tantissimo Soprattutto quando sono a scuola Sono i post-it Ad esempio Visto che non ho un diario Devo utilizzare qualcosa Per ricordarmi Quello che dicono i professori Perché Magari non lo scrivono Sul registro elettronico O magari si dimenticano Di scriverlo Quindi Io prendo Il mio bellissimo post-it L'appiccico Sul quaderno di Brutta Che è il quaderno Che vedo più spesso E questo bel post-it Giallo Sullo sfondo rosso Si vede benissimo Ad esempio Ho fatto così Come potete vedere Adesso nella clip Ho fatto così Con dei rassunti Di filosofia Perché Il professore Non mette Le pagine Sul registro elettronico Quindi Io sono andata lì Io ho chiesto Alla professore Quale sono le pagine Me le sono scritte Sul post-it Appiccicate Sul libro di filosofia L'ho messo davanti al computer Che è un altro luogo Dove vado tutti i giorni E così Non mi dimentico Di fare i rassunti Ovviamente Mi sono messa anche il promemoria Per ricordarmelo Ovvero fare i rassunti di filosofia Poi Altre volte Quando voglio veramente Pianificarmi bene La giornata La sera prima Mi preparo una To-do list Ovvero una lista Di cose da fare Scusate il mio British Perfetto Mi ha già detto British E Come avete visto In questo video qui Dovrebbe sta qui Perché me lo dovrei essere imparata Dovrebbe sta qua La I Col video Col coso Che si chiama finalmente Faccio qualcosa Dove avevo tutta questa to-do list Mi sono scritto il giorno sopra E c'erano tutte le cose da fare E poi man mano che andavo avanti con la giornata Se si aggiungevano delle cose Ovviamente Lo aggiungevo alla lista Un'altra cosa che utilizzavo prima di Scoprire l'utilità Delle note Era questo quaderno qui Mette a fuoco Bensi Questo quaderno qui Che in realtà è un quaderno Tipo un diario Di bordo Se si chiama così Dove Io scrivevo Tutte le Tutti i video Tutti i video Ne ho tantissimi Però questi Già l'ho fatti Questi qua Vedete? 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 Ve li scrivevo tutti qui Così non dimenticavo le idee Che comunque mi venivano in mente E queste sono vuote Perché non le ho continuate Perché stavo iniziando ad utilizzare Le note E poi niente Qui sopra Aspettate Fatemi trovare un esempio Ecco Ad esempio Qui sopra Che c'è scritto Data Io mi scrivevo Il giorno in cui dovevo postare Il video Lo scrivevo lì Infatti anche qui Lo scrivevo comunque In tutte le pagine Visto che c'era uno spazio apposito E niente Poi ho smesso ad utilizzarlo Perché mi dispiace Fruttare questa cosa Così inutilmente Cioè È carino È carino È carino Mi piace E comunque Se vi interessa Non credo Però Utilizzavo La Energize Pencil Della Pentel 0.5 Che è una Beh Che ha una matita meccanica Così E qui sopra Alto il tappeto C'era La gomma Vabbè La infilavo qui E va Era pronta Solo che Di nuovo Non mi andavo Di portare tutte queste cose In giro Perché se mi venivo Un'idea a mente Così A caso Magari Stavo in giro E vedevo qualcosa Che mi dava ispirazione Poi dovevo ricordarmi Tutte queste cose Quindi ho un po' Smesso di utilizzarla L'ultima Tip Che vi darò E che utilizzo Veramente tutti i giorni Da tipo Quando stavo in Prima o seconda media È prepararmi i vestiti Per il giorno dopo La sera prima Quindi prepararmi i vestiti La sera Questo perché Praticamente Io sono una persona Umana Come voi E la mattina Non ho voglia di alzarmi Come avete visto In quest'altro video Che vi lascio qui Se sbaglio Le tornavo per dito Basta Schiudo il canale Perché Tre anni Che faccio queste cose E vabbè Stavo dicendo Anche a me Andrebbe di uscire La mattina Con un paio di leggings E una felpa e bassa Solo che Non mi piace vestirmi così Non è proprio Il mio stile Infatti come vedete Sono sempre tutta Chietata Tutti i gioiellini Tutti i anelli E le mie amiche Infatti Mi dicono Quasi tutti i giorni Ma come te fate Preparate così Dei vestiti Così tutti i giorni Dei metterci Veramente L'impegno E io faccio Ragazzi Io mi preparo I vestiti La sera prima Questo perché Ho più tempo Per decidere Quello che mettermi Non devo andare Di corsa La sera La mattina E anche perché So che posso Vestirmi carina E decente Un po' tutti i giorni Perché decido I vestiti E niente Questo video è finito Non so quanto Vi può essere interessato O quanto vi abbia tenuto compagnia O se lo volevate Però Visto che nessuno Mi suggerisce Come dico Alla fine di ogni video Quello che vorrete vedere Sul mio canale Quindi Commentate qui sotto Io faccio un paio di video Quelli che mi appara a me Però se voi Mi dite qua sotto Quello che volete Io farò il video Che mi dite Così so Che vi piace E che lo guardate E niente Fatemi sapere Come voi rimanete Ordinate E come Voi vi organizzate Le giornate Qui sotto E niente Che ci vediamo Un prossimo video Un bacione Ciao Ciao Un prossimo video